...quanti anni sono che fate con questa iniziativa? Allora, sono cinque anni, siamo arrivati alla settima iniziativa. Quindi è diventata strutturale? È strutturale e l'anno prossimo, grazie anche al contributo che questo premio significa, investiremo in altri due eventi, perché così è il nostro programma di essere a fianco delle imprese per poterne davvero sostenere la competitività quotidiana e ci ammetteremo una luta finché questi nostri associati, con la certitudine della città, vengono aiutati nel loro difficile compito quotidiano di fare il loro bel mestiere. Certo, ho visto che avete anche dei numeri come sono stati. Sì, forse proprio perché l'evento è strutturale, abbiamo delle basenze anche al di fuori della città, vengono da altre province, proprio perché dobbiamo garantire al nostro tessuto commerciale e locale una capacità di attirare i nuovi interlocutori, che non siano i soliti clienti dei nostri passaggi. No, qua, farsi vedere, probabilmente dalle occasioni i nostri passaggi, farsi raggiungere anche da clienti che vengono da fuori.